Noi per rendere più veloce la ricostruzione cercheremo di inserire nel decreto tutte le norme possibili. La legge d'iniziativa parlamentare però ha un percorso molto lungo con un Parlamento che è così intasato come è intasato quello odierno. Svuotare il disegno di legge sulla governanza della ricostruzione della senatrice Stefania Pezzopane e arricchire il più possibile l'articolo 11 del decreto Enti Locali dedicato all'Aquila, apportando profonde modifiche al test attuale che ha provocato una levata di scudi da imprese professionisti per commi che penalizzano i territori e introducono nuova burocrazia. Questa è la pragmatica strategia illustrata oggi dalla senatrice del nuovo centrodestra Federica Chiavaroli, relatrice in Parlamento del decreto legge, dal consigliere comunale d'opposizione Giorgio De Matteis al sindaco Massimo Cialente. Nello stesso giorno in cui è previsto, sempre sul decreto, un incontro a Roma tra una delegazione aquilana e il sottosegretario Paola De Micheli che ha la delega specifica per il post-sisma. I tempi per approvare il fatidico disegno di legge a cui si lavora ormai da oltre un anno, questa l'argomentazione, sono troppo lunghi per di più in un Parlamento a dir poco intasato da emergenze varie. Con il decreto la partita invece si può risolvere entro l'autunno e la senatrice Pezzopane, sottolineano sia Chiavaroli che De Matteis, non se ne abbia male l'importante è dare subito regole migliori e certe alla ricostruzione. Io credo che la senatrice Pezzopane abbia a cuore la città dell'Aquila più che la propria gloria personale. Certamente noi dobbiamo pensare alla ricostruzione della città dell'Aquila e a far sì che il procedimento vada avanti nel miglior modo possibile. È chiaro che nel momento in cui c'è un decreto legge varato dal governo di cui fa parte anche la senatrice Pezzopane io mi porrei il problema di qualche errore compiuto probabilmente nella gestione dei fatti. Ora siamo di fronte a un decreto legge, questo diventerà legge entro 60 giorni e nel momento in cui diventa legge il disegno di legge automaticamente non ha più ragione ad esistere.